Secondo il rapporto ospedale e salute, il Lazio è tra le regioni italiane con il più alto congestionamento dei pronto soccorso. Mancano ambulanze e barelle e i pazienti spesso sono costretti ad aspettare ore d'attesa. Questa carenza dei mezzi nei pronto soccorso e in idea sostiene attraverso una nota scritta ARES 118 causa un altro grosso problema. Si ricorre sempre di più all'utilizzo di ambulanze private con mezzi ed equip sanitaria a pagamento fino a 1.000 euro al giorno con un incremento dei costi nel 2017 pari al 6,64% per un totale di spesa regionale di 6.819.000 euro. Il congestionamento dei pronto soccorso è causato anche dal nuovo record negativo toccato dalla regione Lazio. Sempre secondo il rapporto ospedale e salute, il Lazio risulta essere la regione ordinaria d'Italia con meno strutture d'emergenza urgenza in rapporto alla popolazione residente. Infatti, mentre la media nazionale dei pronto soccorso è pari a 1 ogni 90.546 abitanti nel Lazio è 1 ogni 117.769 residenti. Questo a causa del taglio di un quarto degli ospedali, ne sono stati chiusi 16, e di molti posti letto. A causa di ciò a ciascuno dei 50 pronto soccorso regionali è toccato un sovraccarico medio di 27.000 residenti in più rispetto allo standard nazionale. Il Lazio ha 23 pronto soccorso, mentre la Lombardia ne dispone di 49. Ci sono poi altri 22 pronto soccorso definiti come DEA, Dipartimento d'Emergenza e Accettazione di primo livello, in cui confluiscono anche pazienti inviati dai 23 pronto soccorso di base. Infine, ci sono 5 pronto soccorso DEA di secondo livello, dove confluiscono tutti i codici rossi non trattabili nei 23 pronto soccorso di base e nei 22 pronto soccorso di primo livello.